Siamo presenti anche quest'anno alla Fiera del Franchising perché comunque è uno showroom aperto verso tutto il mondo. Riteniamo che la presenza al Salone del Franchising sia comunque una vetrina per la nostra attività. Il nostro franchising è nato da un progetto proveniente dal settore latero caseario, cioè dalle macchine per yogurt, dalle fermentiere, quindi macchine per produrre yogurt naturale, dalla nostra clientela arrivata alla richiesta di realizzare un completamento che erano i banchi per lo yogurt, di conseguenza il discorso delle macchine per il frozen yogurt. A quel punto abbiamo deciso dopo 20 anni di esperienza nel settore del latiro caseario del mondo dello yogurt di realizzare un'azienda che si dedicasse esclusivamente al franchising del frozen yogurt. Questa è da dove è nata la nostra attività e la nostra azienda è da dove si espande. Il nostro affiliato ideale è chiunque voglia mettersi in proprio, voglia aprire un'impresa, una nuova attività, ovviamente diciamo l'affiliato ideale è il giovane anche perché il nostro brand, la nostra immagine è tutto orientato verso il mondo dei giovani. Non esclude comunque aperture anche da parte di operatori più maturi purché supportati da gente giovane, da impiegati, da lavoratori giovani. Questo è l'obiettivo primario della nostra, del nostro franchising, GIO.